Conoscere il seno zodiacale non è assolutamente indispensabile per conquistare, per sedere un uomo, però può essere un'informazione aggiuntiva che abbinata ad altre informazioni sicuramente più importanti ci permette di creare una mappatura globale della persona per poi impostare la giusta strategia, la giusta modalità comunicativa. I seni zodiacali sono ovviamente delle approssimazioni che però alcune indicazioni utili possono darceli, soprattutto una classificazione sulla base di avere a che fare con persone che hanno un senso pratico, che sono ancorate alla terra, oppure persone che tendono a vivere fortemente la passione, persone invece che hanno una caratteristica di essere più frivole, più volubili con la testa tra le nuvole. Questa è una suddivisione che ci permette poi di impostare meglio un tipo di comunicazione piuttosto che in un altro. Poi ci sono alcune caratteristiche peculiari di ogni segno che andremo a vedere nei prossimi video in modo da fare una carellata segno per segno per cercare di capire quelle che sono le informazioni che i segni zodiacali possono dare utili alle strategie, ai metodi di seduzione. E sono informazioni anche queste che integrate con altre informazioni molto più importanti legate alle emotività della persona, possono però fare anche quella differenza che permette anche di fare un salto di qualità, proprio perché la seduzione è un processo che avviene diciamo per soglia, per cui basta superare un certo livello di potenziale e abbiamo sedotto, abbiamo conquistato. Se restiamo al di sotto non abbiamo sedotto. Quindi sono alle volte i piccoli dettagli che ci permettono di acquisire quel po' di potenziale in più che fanno passare una situazione che credevamo fallimentare in una situazione di successo o alle volte può avvenire se non agiamo nel modo giusto o esattamente al contrario, credevamo già di aver raggiunto il risultato e poi si tramuti in un insuccesso per un piccolo errore insomma. Bene, per questo video è tutto e nei prossimi video vedremo una carellata segno per segno. Alla prossima!